ciao amici c'è un frutto dolce dal caldo colore arancione che è perfetto per l'estate è l'albicocca squaletto dice che ne va matto anche io sono deliziose le albicocche non sono solo buone sono anche ottime per dimagrire e per facilitare l'abbronzatura siete curiosi di sapere perché mettete subito un bel mi piace a questo video lo scoprirete tanti mi piace tanti nuovi video albicocche per dimagrire le albicocche sono dolci quindi perfette come sostituto light al posto di gelato o dessert pieni di zucchero bianco vanno benissimo anche come spezza fame durante la giornata così si evita di cercare snack meno salutari per fortuna contengono poche calorie solo 28 per 100 grammi quindi 4 o 5 si possono mangiare ogni giorno no problem l'albicocca contiene anche due aminoacidi responsabili del senso della sazietà quindi sono un cibo saziante ho spiegato come dimagrire con i neuroni della sazietà in un mio ebook interessante il link è in descrizione albicocche per la pelle il colore arancione delle albicocche dato dal beta carotene insieme al contenuto di vitamina a rende questo frutto perfetto per proteggere la pelle in estate già due albicocche contengono il 100 per cento del fabbisogno giornaliero di vitamina a in più regala anche sali minerali come ferro magnesio fosforo e calcio utili anche per l'idratazione della pelle cosa c'entra l'idratazione con la bronzatura è presto detto la pelle per funzionare ha bisogno di essere sempre idratata altrimenti diventa inerte cioè non reattiva per questo bisogna bere acqua e mangiare cibi come le albicocche che idratano e nutrono la pelle poi le albicocche contengono anche vitamina c antiossidante che protegge dai radicali liberi noi ci facciamo una sgorpacciata a voi piacciono le albicocche fatemelo sapere nei commenti qui sotto e rispondendo al sondaggio che trovate nella scheda cliccabile della piccola equinalto per conoscere i benefici di tanti altri cibi per la linea e la bellezza basta iscriversi al canale è facile basta un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e vivi meglio